Il servizio di udopurazione in Italia tra regolazione e industria assume una rilevanza sempre maggiore nella gestione dei servizi idrici anche perché rappresenta uno dei principali ambiti dove far valere il Polluter Pace Principle un workshop organizzato dall'UEL, Laboratorio Autilities e Dentilocali e acquainfo.it, fare i conti con l'ambiente 2015 Grazie a tutti